Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, abbiamo visto tutti Salvini la figuraccia in Polonia, dove, a parte la figuraccia, si presenta anche con giubbotto pieno di aziende italiane. I tifosi salviniani dicono Cosa? Cosa dite? Quel giubbotto l'hanno messo tanti politici, è stato regalato ai politici, cosa vuol dire solo parlare di Salvini? E, cari tifosi salviniani, il fatto è questo. Il giubbotto gliel'ha regalato una onlus, che si occupa di oncologia. Bene, però se vai in una zona come quella, sotto i riflettori di tutte le televisioni straniere, microfoni, e ti presenti con un giubbotto, che sembri un pilota di rally, con tutte le... un pilota di Formula 1, con tutti i nomi delle aziende stampate su lì, Capite che non è il caso, quel giubbotto te lo puoi mettere a Milano per andarti a fare una passeggiata. Capisco che è stato regalato da una onlus, però, che vuol dire? Cosa vuol dire? No? Se vai in una zona di quel tipo, con dei problemi di un certo tipo, e ti presenti con un giubbotto pieno di nomi di aziende italiane e straniere, certo te lo potevi evitare, perché dai adito a pensare a molte persone che quella cosa sia un qualcosa per sponsorizzare aziende, per promuovere il Made in Italy o chissà che cosa. Io con tutti i giubbotti che hai ti presenti con uno pieno di pubblicità? Cioè devi anche pensare a quello che possono pensare gli altri. Quindi il problema non è il giubbotto, e il problema è che in quell'occasione arrivare con quel giubbotto non va bene. E non sono solo io che pensa questo. Ad esempio Salvini con il logo di Areu provoca che i lavoratori dell'azienda hanno dichiarato «Ci sentiamo offesi». In un'interrogazione in regione viene chiesto come mai indossare il simbolo che dovrebbe essere riservato a chi gestisce emergenze sanitarie. Areu, quindi, gestisce emergenze sanitarie. Beh, il caso della maglietta ha fatto il giro del mondo legato anche al caso Giubbino. Ecco, Salvini non si è fatto mancare niente. Due casi in uno solo. Viene fatta un'interrogazione proprio nella regione, proprio sulla giacca indossata dal leader leghista. Il logo dell'azienda regionale Emergenza e Urgenza. L'agenzia sanitaria Lombarda, che si occupa appunto delle emergenze sanitarie, che è stato sfoggiato da Salvini insieme a un folto gruppo di altri simboli di sponsor sul giubbotto che aveva al suo arrivo a Prezemsley's Mill, e che è stato immortalato da foto e video, divenuto peraltro fonte di numerosi meme che troviamo dappertutto. In particolare, Luigi Piccirillo, dei 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, ha presentato un'interrogazione per capire se Regione Lombardia e Areu hanno espressamente autorizzato Matteo Salvini a utilizzare i loghi istituzionali sul giubbotto che lo stesso ha indossato in occasione della sua visita in Polonia. In caso contrario, se hanno preso, intendono prendere provvedimenti per dissociarsi dalla scelta del politico al fine di chiarire ai cittadini che la missione politica non è stata organizzata da Areu e Regione Lombardia. Su questo aspetto devo dirvi che Salvini non è che deve giustificare o deve avere il permesso per mettere un giubbotto. Il permesso probabilmente bisogna chiederlo a chi ha creato il giubbotto se chi ha creato il giubbotto aveva il permesso di mettere quelle aziende. Io credo assolutamente di sì che le aziende stesse abbiano contribuito alla realizzazione di quel giubbotto giubbotto che poi andava dato a chiunque quindi non ci si può lamentare poi se lo indossa Salvini o se lo indossa il Papa o se lo indossa Letta. Se lo indossa Letta va bene, se lo indossa Salvini no perché se va a fare le figuracce ci fa fare anche a noi una figuraccia. Certo la figuraccia di Salvini lì con il logo Audi Italia Colmar eccetera eccetera certo fa una pubblicità negativa in questo caso involontaria alle aziende ma non credo che questo legalmente possa sfociare in qualcosa nel senso non credo che proprio realmente si possa accusare Salvini di qualcosa per aver legalmente messo il giubbotto. Come vi dicevo prima è solo una questione di buonsenso che un politico dovrebbe avere se vai lì in quelle zone non ci vai con quel giubbotto che sembri un pilota da rally ecco con quello vacci in bicicletta o vacci in moto ecco vacci in moto con quel giubbotto con tutte le cose che sembri figliuolo. L'interrogazione da voce anche alle proteste dei lavoratori di Areu iscritti al sindacato Adl Kobas che hanno espresso dissenso rispetto al fatto che Salvini girasse con il simbolo di Areu ricordiamo si legge nella nota dei dipendenti di Areu che i giubbotti con il marchio Areu non sono in vendita nelle bancarelle ma in dotazione ai lavoratori e pagati con i soldi dei contribuenti Areu è un'agenzia governativa e non un'azienda privata vedere Salvini indossare il nostro giubbotto in Polonia davanti alle telecamere di fotografi e giornalisti con il sindaco in un'operazione propagandistica ci ripugna e offende come lavoratori e lavoratrici Salvini con quel giubbotto sottratto impropriamente compromette l'immagine di Areu ma realmente questo giubbotto non è stato sottratto non ha mica rubato Salvini per andare in Polonia dai come vi ho sempre detto bisogna criticare Salvini il giusto ma non bisogna condire le cose con sottratto impropriamente non è che è andato a fregarsi il giubbotto perché non sapeva come andare in Polonia c'è lì c'ho freddo vado a sottrarre un giubbotto non ha sottratto impropriamente proprio nulla dai bisogna essere onesti sempre criticare Salvini dire non era il caso di andare lì col giubbotto che sembrava un pilota di rally va bene ma dire che l'ha preso impropriamente è una capperata che ecco quello dire che Salvini ha preso impropriamente il giubbotto è perseguibile legalmente ma Salvini che si presenta col giubbotto non è perseguibile legalmente moralmente lascia un po' di dubbi ma legalmente no quindi bisogna anche qui comportarsi in modo corretto e retto essere con la schiena dritta attaccare una persona per non condividere le sue scelte va bene ma metterci su altre cose false no grazie a tutti e buon proseguimento ci vediamo al prossimo video grazie a tutti